E allora benvenuti in nostra compagnia amici di Milan Channel, abbiamo tenuto l'audio originale della Domenica Sportiva perché esistente, perché giunto a noi nel primo servizio ci salutiamo adesso, seconda giornata, questo è Milan Superclassic, lo speciale esclusivo dedicato grazie alla collaborazione della RAI e di Domenica Sportiva all'intera stagione del Milan 1972-73, tutte le partite, gli highlights, i momenti importanti vissuti dalla squadra rossonera. Qui siamo a Terni, è il primo ottobre del 1972, come avete visto il Milan ha esordito vincendo 4-0 nella prima giornata contro il Palermo. Il presidente del Milan nella stagione 72-73 è Albino Butticchi, la sua campagna acquisti è stata importante, ha acquistato fra gli altri Luciano Chiarugi e Maurizio Ramon Turone. Nero Rocco e direttore tecnico Cesare Maldini allenatore. Il Milan è arrivato secondo nella stagione precedente, vuole riscaptarsi, quella del 72-73 è una squadra d'eccezione che arriverà in fondo su tutti e tre i fronti in cui è impegnata. Campionato Coppa Italia, Coppa delle Coppe, arrivare in fondo non significa vincere tutte e tre le manifestazioni, ma due sì, la terza significa il campionato, andarci molto vicino. Campionato comunque importante, parleremo anche della Fatal Verona evidentemente perché nella storia del Milan non ci sono solo trionfi e successi, ci sono anche questi episodi e naturalmente rivivremo tutto insieme. Questa era Ternana Milan finita 0-0, passiamo alla terza giornata.